In collaborazione con il vostro Logistic Provider, basi operative a Genova, Padova, Livorno, Milano, La Spezia e Reggio Emilia. Gruppo Spinelli, il vostro Logistic Provider, per i vostri trasporti su gomma e ferrovia, 600 mezzi propri, 200.000 ai viaggi effettuati e 42 milioni di chilometri percorsi. In più, il Gruppo Spinelli è disponibile per il servizio di deposito. Puntata di Porto e Trasporto in trasferta. Questo martedì siamo nel prestigioso Palazzo San Giorgio, sede di Autorità Portuale. Come sempre, nostro compagno di avventura, Francesco Maresca, consigliere comunale con delega a Porto e Mare. Grazie come sempre per essere con noi. Grazie a voi. E Marco Sanguineri, segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Grazie davvero per la presenza. Grazie a voi. Dunque, Maresca, partiamo subito con un occhio al passato e uno al futuro. Nel 2017 le autorità portuali sono state riformate. Qual è il suo pensiero in merito? Lei è stato d'accordo con questa riforma? Cosa ne pensa in sostanza? La riforma, assolutamente, ha creato delle cose, diciamo, più importanti, più sinergiche per quanto riguarda i rapporti che si creavano prima, che c'erano prima tra le varie autorità portuali che erano suddivise nella nostra regione. Quindi adesso c'è un'unica autorità di sistema portuale che sicuramente credo che sia importante. lo sapranno sicuramente meglio il Presidente e il Segretario Generale dell'autorità portuale. Credo che probabilmente invece ci sono delle cose da rivedere nella riforma del Rio, che purtroppo dal punto di vista dei comuni ha un po' estromesso il ruolo del Sindaco nel Comitato di Gestione Portuale e soprattutto anche per quanto riguarda il parere che può dare il Comune nel Comitato, per quanto riguarda il piano portuale, il piano regolatore portuale, i tempi sono troppo corti quindi il Comune è un po' stato estromesso. Quindi c'è da rivedere un attimo la riforma del Rio e vediamo di rifarlo ovviamente con il nuovo Governo sicuramente le autorità di sistema portuale e comune potranno agire di conseguenza in questo però per il resto la riforma nelle cose importanti è stata giusta. Secondo Maresca una riforma tutto sommato positiva naturalmente con alcune cose da rivedere. I porti sono stati riqualificati introducendo un criterio di tre categorie porti di difesa militare, porti commerciali e porti di rilevanza interregionale e regionale in cui il gestore sostanzialmente è la Regione. Questo cos'ha cambiato poi dal punto di vista pratico? Rispetto alla precedente suddivisione dei porti sostanzialmente nulla questa ripartizione. Quello che è cambiato è che nei porti di rilevanza nazionale o internazionale adesso sono presenti un numero ristretto, ridotto di autorità portuali. Prima erano più di 20 le autorità portuali in Italia oggi con la costituzione delle autorità di sistema si è arrivati mi sembra a 14 autorità in tutto. Secondo alcuni sono ancora troppe secondo altri rappresentano un equilibrio dei territori a livello nazionale sappiamo che poi l'accorpamento di singoli porti con lo scalo vicino non sempre sono ben visti dalle comunità locali quindi diciamo ci sono state anche parecchie discussioni e parecchie opposizioni a questo che è uno dei punti fondamentali della riforma a mio giudizio un punto corretto che va nella prospettiva giusta in quanto mette assieme, mette a fattore comune delle infrastrutture disperse sul territorio che necessitano di una regia unica per far fronte alle esigenze del mercato cioè da un lato mi trovo a far fronte a una domanda sempre più concentrata operatori sempre più grandi e quindi è opportuno che anche dall'altra parte ci sia una possibilità di regia e di sviluppo di pianificazione delle infrastrutture portuali che fa capo a soggetti che possono mettere in campo risorse e territori più coerenti con la nuova domanda poi su questo bisognerebbe dilungarsi un po' sul ruolo del governo centrale che mi pare essere un altro dei punti chiave della riforma cioè è una riforma che riporta al centro decisioni importanti Maresca, naturalmente Genova è rientrata tra i porti di maggiore rilevanza nazionale tanto che essa è una delle 15 autorità di sistema essi hanno un ruolo strategico di indirizzo e di raccordo con le amministrazioni pubbliche delle amministrazioni pubbliche in buona sostanza dare le linee di indirizzo in qualche modo cosa vuol dire? Ma intanto volevo fare una premessa che questa domanda che Genova tra le 15 autorità portuali più importante è la più importante probabilmente anzi io personalmente sono dell'avviso che probabilmente se ce ne fossero di autorità portuali due o tre di rilevanza italiana, europea che avessero una gestione un po' generale forse sarebbe meglio diciamo che l'autorità portuale è una funzione di indirizzo ovviamente relativa a tutte le questioni del traffico infatti si discute molto e non solo del traffico ma anche del piano regolatore portuale quindi c'è un comitato di gestione che sta diventando sempre di più un organo quasi di amministrazione di una società contando comunque che sempre l'autorità di sistema portuale è un ente pubblico e credo che in Italia siamo d'accordo che è ancora un ente pubblico anche se ci sono in questo momento dei problemi con l'Europa però credo che forse il nostro paese se vuole puntare su una strategia portuale che ci porti in Europa e cerchi di provare a far concorrenza a quei porti che sono avversi Rotterdam non deve forse basarsi e concentrarsi più su due o tre autorità portuali che funzionino bene che riescano a fare almeno un po' di concorrenza a quei porti piuttosto che su 15 autorità portuali che purtroppo non riescono a fare quella concorrenza Poi ovviamente girerò in qualche modo la domanda e la considerazione anche a Maresca anche la governance è stata riorganizzata c'è un board molto snello come dire che ristretto e guidato poi tra l'altro da un presidente che in qualche modo ricopre anche la figura del manager ecco prima con Maresca parlavamo di diversi tipi ordini di problemi con l'Europa il porto in questo senso può essere visto come un'impresa e quindi soggetta come dire a un certo tipo di sanzioni da parte dell'Unione Europea o è ancora un ente pubblico? Ecco, molti si domandano questo Sì, molti se lo domandano devo dire fuori dai confini nazionali perché nei confini nazionali la definizione è molto chiara è molto chiara proprio dal punto di vista legislativo è chiara nella legge 84-94 è stato definito anche il tipo di organismo pubblico che è l'autorità di sistema con una finanziaria del 2007 se non erro che ha definito le autorità portuali enti pubblici non economici quindi questo è il punto di partenza la base su cui noi abbiamo sempre lavorato e credo che perlomeno per come è organizzato l'ordinamento italiano sia difficile sostenere il contrario l'autorità di sistema ha compiti eminentemente pubblici ha compiti di pianificazione ha compiti di controllo del territorio ha compiti di dare in concessione le aree portuali ha compiti di realizzare investimenti pubblici con i propri finanziamenti anzi la legge molto esplicita fa divieto all'autorità portuale di svolgere operazioni o servizi portuali quindi è assolutamente impossibile per gli enti svolgere attività commerciali all'interno del porto a differenza di qualche authority nord europea dove non c'è questo divieto assoluto per cui in alcuni momenti ad esempio l'autorità portuale di Rotterdam ha ritenuto di partecipare a determinati capitali sociali di aziende che gestivano importanti parti del termine da noi la separazione è netta ora la discussione che si fa è in relazione alle entrate da canoni demaniali che secondo la definizione più ampia dell'Unione Europea sono entrate comunque da ente economico siamo appena all'inizio secondo me di questo dibattito quindi vedremo è chiaro che nel momento in cui dovesse prevalere la tesi di un ente economico dovrebbero cambiare anche altri profili della legge insomma l'opinione è chiara il porto rimane comunque un ente pubblico lei ovviamente è d'accordo rispetto a questo? ma assolutamente il porto la nostra legislazione come ha ben detto il segretario generale Sanguineri è un ente pubblico in Italia le autorità portuali adesso le autorità di sistemi portuali si comportano sempre di più sia nei compiti sia nell'organizzazione come enti pubblici giustamente anzi si sono sempre comportati come enti pubblici hanno anche proprio questo lo ribadisco anche in relazione un po' alla mia delega che è la prima volta che c'è anche in relazione alla città qua si sta l'autorità portuale è anche tutore in un certo senso dell'interesse pubblico anche dei cittadini di avere un'autorità portuale funzionante quindi è un ruolo molto importante per la stessa città quindi diciamo sostenere che l'autorità di sistema portuale è un'impresa e quindi non ha quelle funzioni pubblicistiche che poi possono considerarsi fondamentali per i cittadini significa anche ribadire sostenere che che l'importo è un'impresa per la città ma invece non è un'impresa l'importo come il nostro orgoglio dirlo è proprio una grossa parte della città in cui trovano lavoro tantissime persone quindi 50.000 50.000 ad indotto lavorativo e circa 8.000 dipendenti quindi io sono assolutamente almeno dal mio punto di vista sulla linea del dottor Sanguineri Per chiudere il nostro primo blocco andiamo a fare due battute velocissime da quando diciamo c'è stata questa trasformazione chiamiamola così in modo molto esemplificativo in autorità di sistema come ritiene si è lavorato finora? Sono parte in causa quindi è troppo facile la risposta però ritengo che si sia lavorato bene è stato un anno un anno importante un anno importante perché come dicevo prima nel nostro caso e non è così per tutte le autorità di sistema c'è stata una vera e propria fusione fra due porti comunque due porti rilevanti il porto di Genova e il porto di Savona se voi andate a vedere altre autorità di sistema non hanno avuto questo non hanno dovuto affrontare questo tema penso a autorità importanti come può essere Trieste come può essere Venezia come può essere Ravenna quindi sono rimaste sostanzialmente quelle che erano prima quindi questo è stato il primo lavoro di unificazione e di armonizzazione un lavoro che ovviamente non è finito ma che ha impegnato molto l'ente e poi diciamo è stato un anno positivo perché si sono avviate tante le basi si sono gettate le basi per tante opere importanti che caratterizzano sia il porto di Genova sia il porto di Savona nei prossimi anni per chiudere come collabora il comune con autorità di sistema ma come detto appunto quest'anno il sindaco ha voluto inserire una delega nuova Porto e Mare nel Genova proprio per dare importanza e quell'importanza anche un pochino forse in contrasto giustamente da parte mia con la legge del Rio l'importanza dei comuni nel rapporto che c'è tra appunto città e porto noi non vogliamo assolutamente travalicare la competenza dell'autorità portuale che è una competenza appunto prevista dalle norme prevista dalla legge cioè è proprio un'autorità però noi vogliamo essere diciamo in un certo senso un organo a cui l'autorità portuale e a cui la città si può rivolgere si può rivolgere per risolvere magari quei piccoli problemi o grandi che siano che possono interessare quella linea diciamo che c'è tra il porto della città come per esempio le opere infrastrutturali dell'ultimo miglio oppure i problemi di impatto ambientale sulla città oppure l'impatto economico lavorativo che il porto dà sulla città quindi vogliamo essere diciamo un organo che coniuga anche se devo dire che c'è sempre stato un buon rapporto a Genova rispetto ad altre città tra il comune e il proprio porto quest'anno noi volevamo sancirlo definitivamente con una delega che in qualche modo appunto sta portando già dei buoni frutti infatti il segretario generale è già venuto in commissioni da noi in consiglio in comune ci sono già state diverse commissioni che hanno devo dire che rispetto anche ad altre commissioni consigliari sono state commissioni utili poi abbiamo già iniziato dei progetti con le associazioni di categorie portuali in modo da snellire alcuni procedimenti che aiutare a snellire alcuni procedimenti tra cui appunto l'entrata dei camion nei varchi portuali che coinvolgono comunque anche il traffico cittadino che possono essere importanti sia per il porto ovviamente ma anche per la città noi tra qualche minuto continuiamo a parlare di porto qui dalle sale prestigiose del palazzo San Giorgio tra pochissimo